Il corpo umano è composto per circa il 60% d'acqua. In alcuni di noi, un po' di più. Il vincitore della gara di surf di Scyllaise, Jimmy Collins! Obblichiamoci! Sì! Mi sembra impossibile che tu riesca a vivere così. Fotografare i surfisti non sembra un lavoro, giusto? Non dirlo a nessuno. Ho avuto un'idea. Che te è legale. Visto che meraviglia! Ci sa fare. Quando c'è schiuma si surfa e quando è piatto lavoriamo. Non riusciva a togliermi gli occhi di dosso. Stavo cercando di capire se sei mio fratello o mio padre. È tutto al posto con Jimmy. Ho tenuto d'occhio i tuoi amici, Ippi, e adesso farò lo stesso con voi. Non hanno niente contro di noi, lo sai anche tu. Ci sono onde sinistre che si incurvano fino a formare tubi giganti. Solo pochissimi hanno fatto surf laggiù. Solo raggiungerla sembra impossibile. Se Dio facesse surf, quello sarebbe il suo paradiso. Non sembro nemmeno io. È molto di più di te. Ho tutto sotto controllo. Credi in me. Tu e Jimmy siete come lo ying e lo yang. Entrambi fate schifo senza l'altro. Che il difficile non è cavaccarle. Semmai è prenderle. Vai, 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 vai! Ci adattiamo. Sopravviviamo. Andiamo avanti. Sopravviviamo. Grazie a tutti.